Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi. Allora l'episodio di stanotte terminerà con una domanda che vi farò e inizio raccontandovi una specie di test, gioco psicologico che mi hanno fatto oggi. Per farlo basta avere un po' di immaginazione, chi più che meno tutti abbiamo immaginazione, chi anche troppo, il sottoscritto. Detto questo allora dovete immaginarvi questa cosa qua, state tornando a casa di sera durante un giorno di pioggia, ok? Siete in macchina e la macchina ha una particolarità, è una specie di spider con due posti solo, ok? Allora siete in macchina, faccio una premessa, non immaginate me in macchina, soprattutto di notte e soprattutto con la pioggia, perché già sono fastidioso di mio durante le giornate di sole quando sono in mezzo al traffico, che è uno spettacolo vedermi. Se c'è anche la pioggia bisogna eliminare l'audio perché è tutta una bestemmia. Durante quei giorni vorrei non avere una macchina ma un carro armato è far tabula rasa e lo farei, se avessi un carro armato, però non penso sia semplice da prendere. Detto questo allora siete in macchina, sta piovendo, a un certo punto vedete alla vostra destra una fermata di un pulma insomma e vedete tre persone. C'è una vecchietta che tra altre cose non è neanche sotto la tettoia, c'è l'ombrello però si sta bagnando insomma. L'altra persona è il vostro migliore amico o la vostra migliore amica e dopo come ultima persona c'è, nel mio caso ok, quella che potrebbe essere la donna della mia vita, la ragazza dei miei sogni. Avete presente l'amore a prima vista che basta uno sguardo? C'è sta leggenda metropolitana che ti innamori con uno sguardo, ecco. La terza persona che vedete è questa qua. E adesso la domanda che vi faccio è considerando che siete in una macchina con due posti, a chi date una mano? Chi prendete su? Chi accompagnate a casa? Ok? Allora, io a sta cosa qua ho due risposte, una teorica e una pratica. Quella teorica è anche un po' tra virgolette, non dico di fantasia però adesso ve la dico. Allora la vecchietta personalmente la lascio là, lo so che è brutale come cosa, è inumana eccetera eccetera eccetera, però c'è da dire una cosa. E questa è l'assoluta verità. Nella mia esperienza, quando ho dato una mano alle persone anziane, ok? Non sto scherzando, adesso mi farà anche ridere. Allora, nel migliore dei casi, quando ho dato una mano a qualche vecchietto, mi sono avvicinato, nel migliore dei casi mi hanno detto vattene zingaro. Verissimo, ho detto. Ho detto anche nel migliore dei casi, perché nel peggiore dei casi è successo anche di peggio. E racconto un episodio, stava piovendo, eravamo fuori da un supermercato e vedo una simpatica nonnina, ok? Con l'ombrello e con la spesa troppo pesante. A un certo punto la spesa cade. Io mi avvicino alla nonnina, faccio per darle una mano, ok? In quel preciso momento la nonnina chiude l'ombrello e comincio a darmi poderose ombrellate sulla schiena. Non sto scherzando. Perché pensava che volessi portarle via alla spesa, non lo so. Tra altre cose, tutte le persone che guardavano la scena, ok? Pensavano, cioè nessuno ha pensato che volessi fare un atto bell'atto, insomma. No, tutti pensavano che volessi rapinare la vecchietta. Quindi, allora stop. Ho più dato una mano. Quindi la vecchietta per me sta là. Dopo c'è il mio migliore amico o la migliore amica. Nel caso il mio migliore amico io lo lascio là. Senza se e senza ma. Perché? Se è il mio migliore amico, vuole la mia felicità, no? Quindi, che problemi ci sono? Si prende un po' di pioggia. È contento per la mia felicità. Di conseguenza scelgo di portare a casa la futura donna della mia vita. Questo sapete cosa sta a indicare? Mi è stato detto. Sa indicare che praticamente metto la mia felicità sopra ogni cosa. Sono egoista, tra virgolette, perché metto la mia felicità sopra ogni cosa. Però sono anche realista, perché è così che dovrebbe essere. Mettersi al primo posto, mettere la propria felicità. E allora penso, penso, penso. Penso che la storia della mia vita non è proprio così. Cioè, non sono proprio io che metto... non è proprio una caratteristica mia mettere me al primo posto, ok? Quindi c'è qualcosa che non quadra. Quindi, in realtà, sinceramente, le cose andrebbero in modo un po' diverso. Torniamo indietro, stessa scena, io che passo in macchina, spiderino, due posti, piove, vedo il mio migliore amico e come prima cosa gli faccio il doppio dito. Sì, sì. E gli dico anche, vaffanculo, barbone, comprati una macchina, ok? Dopo, la donna della mia vita, con la fortuna che ho, la carico su e il giorno dopo mi risveglio in un capannone senza un rene. Quindi anche quella la escludo e la vecchietta la escludo a priori. Perché, ripeto, è vero quello che mi è sempre successo nel cercare di dare una mano. Quindi, in realtà, non tirerei su nessuno, andrei semplicemente a casa. Forse mettendomi al primo posto. Non lo so. Comunque questo è quello che farei. E adesso, sinceramente, sono anche un po' curioso di sapere cosa fareste voi al posto mio, insomma, immaginandovi questa scena, cosa fareste. Buonanotte.